Musica Qui uno ci deve pensare Se dovessi scrivere la lettera Babbo Natale Difficile Sicuramente una sede nuova Molta più affluenza giovane Se si può Una donazione Delle lenzuole, delle coperte, delle pedere per i servizi Ma qualche console per noi dell'equipaggio che ci possiamo il tempo quando c'è la chiamata Anche qualche simulatore di guida così che si fa un po' di pratica Un nuovo mezzo per i servizi sociali Un po' più di tempo libero da dedicare all'associazione Un nuovo mezzo, sì Spazioso, attrezzato, funzionante, bianco, rosso, azzurro E' strano eh, te lo dico se vuoi Vorrei fare il postino Si può dire Non è un brutto lavoro Ci si trova bene, si fa il cuore in giro Lavori più o meno mezza giornata Poi verrei qui, faccio il resto della mezza giornata e sono a posto Studiare di più è quello che cerco di fare ogni anno Maggiore impegno e più sorrisi durante i servizi Terminare tutti gli esami e poter laurearmi Ritornare a studiare Sarebbe bello le scienze infermieristiche La pubblica, continuare il percorso che ho iniziato Sistemare e fare una famiglia Io questo vorrei, cioè comunque fare una casa, sposarmi, avere un figlio o una figlia con la mia compagna Instaurare un rapporto più confidenziale con anche i pazienti Per farvi sentire un po' più a loro agio Buona strada Buona strada Buona strada a tutti Buona strada Buona strada Buona strada Buona strada Buona strada Buona strada